nonostante due anni di lavoro per contenere la peste suina la malattia avanza sono stati individuati focolai in allevamento di lombardia emilia romagna piemonte liguria e lazio mentre in toscana la malattia è stata trovata solo nei cinghiali quando viene individuato un caso in un allevamento per legge tutti gli animali devono essere uccisi subito per cercare di contenere la peste suina che è mortale per maiali e cinghiali ma non è pericolosa per gli umani in questi anni è stata ampliata la stagione di caccia sono state installate trappole per catturare i cinghiali e barriere per limitarne gli spostamenti in sicilia dove non ci sono segnalazioni di peste suina si stanno intensificando i controlli sugli allevamenti per la trichinella una malattia dei maiali che rischia di essere presente nei suini selvatici e nei cinghiali ed è trasmissibile alle persone che mangiano la carne cruda dell'animale infetto una malattia che nei casi più grave può essere mortale anche per gli umani grazie a tutti